E ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video di Free Time Joe Oggi sono qui su PES6 per giocare il derby Milan-Inter che si giocherà nella realtà domenica 20 E io prendo il Milan perchè sono simpatizzante Ok si parte Rispetto alla formazione che c'era ho solo messo Maldini al posto di Calazze E per il resto l'ho lasciata com'era Ci sono in attacco Girardino e Inzaghi E a centrocampo Pirlo, Gattuso, Kakà e Sedorf In difesa ovviamente Maldini, Nesta, Terzini, Cafu e Serginio E in porta il mitico Dida Che vederlo anche qua solo nel gioco mi dà una certa nostalgia Si parte Calcio di inizio dei rossoneri Gattuso Si passa in mezzo a tutti, bravo Goal! Goal immediato! Goal immediato di Inzaghi 1-0 Pippo! 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 Pippo mio! Come diceva il grandissimo Tiziano Crudeli che io stimo quando Inzaghi era ancora lì nel Milan Pippo mio! Pippo mio la mesta! Bella azione! Ma quello che ha fatto Gattuso mamma mia supera tutto Adriano! Oh! Va fermato Adriano eh! Serginio Siedorf 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 Pirlo Kakà Gattuso Siedorf E sta... Credo che sta ceppa Cafu Ah! Gilardino Gilardino Vola! Vola Alberto! Inzaghi! Bella! Bella lo stesso Inzaghi Gilardino Se qualcuno scattasse più avanti Kakà Pirlo Fallo Fallo e punizione Batterà Il maestro Pirlo Però non le so battere Non so tirare Su punizione Pirlo E infatti Barriera E lo sapevo me Occio Vabbè io La do indietro Tranquilla Adida Lunga Ho fatto così Per andare proprio sul sicuro Ibrahimovic Col cazzo Che sono andato sul sicuro Ma sto Cazzone Che non è altro Madonna Ti taglierei la testa Si riparte Uno a uno Gilardino Mamma mia Fuori di quanto Zedorf Gilardino 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 Cacà Inzaghi E madonna Come sono laterale Cacà Ma no Ma si può sbagliare Da lì Gilardino Cacà Cacà Ma dove che ha fatto Giulio Cesar Stankovic Si ma io sto qua Come lo fermo Alta Finisce qua Il primo tempo Uno a uno Ho segnato subito Poi hanno recuperato Loro Porca Eva Porca Si riprende Vediamo come va Dai Cafu Devo fare più Pressing Vaffanculo Adriano Di sta Gran Ceppa Ibrahimovic Magiale Maledetto Che non sei Altro Via No Punizione Pericolosissima Alta Alta Gattuso Girardino Dai Dai Sedorf 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Grande Sedorf Grande Sedorf Che ci ha messo lo zampino Più o meno Come ha fatto Inzaghi All'inizio Grande Sedorf Grande Grandissimo Grandissimo Daie Fallo C'ho paura Quando c'è la punizione L'avversario Dida Didone Nelson Dida Mamma mia Come la calciata Sto qua Sto qua Ma è possibile Che devo sempre Soffrire Sui calci D'angolo Gattuso Cacà Girardino Filippo Filippo Rosso Rosso Eh oh Purtroppo ci stava Che brutto fallo Mamma mia Ho fatto proprio Un brutto fallo Si Serginio E dai Figlia di Troia Un po' di Pressing Ambrosini Sei appena entrato Te Fuori gioco Fuori gioco Adesso Batto piano Piano E lunga Ambrosini Uuuuh Madò E' uscita di quanto Di un Capello di Adriano Che è pelato Quasi Mamma mia Piano Dida Lasciati la stringa E batti con calma Finita 2 a 1 Per il rosso neri Inzaghi al secondo minuto Poi C'è stato il pareggio Di Ibrahimovic Al 22esimo Gol di Sedorf Poco dopo Il 70esimo 2 a 1 Per i rosso neri Grande vittoria Fosse così Nella Realtà Godo Anche se sono Solo simpatizzante Godo E Speriamo Ragazzi Grazie per la visione Questo video Può finire qui Un saluto Al vostro Free time Joe Ci vediamo Nel prossimo video Ciao ragazzi Ciao Ciao